Aristotele Onassis è stato il simbolo della ricchezza nel secolo scorso. La sua è stata una vita da film, famiglia povera, emigrazione in Argentina, lavoro come telefonista. Come telefonista riesce a carpire i segreti dalle conversazioni degli importanti uomini d'affari dell'Argentina, si mette in proprio, a 25 anni ha già raggranellato parecchio e poi scala un po' la carriera nel contrabbando e dal contrabbando passa all'acquisizione di navi, successivamente all'acquisizione di importanti flotte aeree nel mondo. Dove c'è da comprare qualcosa lui è sempre presente e quindi diventa il numero uno come armatore, uno dei più importanti proprietari di flotte aeree private del mondo. Ma non si accontenta di questo e diventa uno dei big del jet set internazionale. Sposa la figlia di un importante armatore greco, Livanos, Atina Livanos, e non basta, poi comincia questa relazione che farà discutere molto e darà grande spazio ai giornali, ai periodici di gossip di quel periodo. La sua relazione, la sua contrastata storia d'amore con Maria Callas, ma Onassis è uno che cerca di ottenere il meglio e quindi la sua scalata sociale nel mondo che conta si completa con il matrimonio del secolo, il matrimonio con la vedova di John Free Gerald Kennedy. Un matrimonio che farà discutere moltissimo, che gli americani non approveranno mai, anche perché Onassis è sotto inchiesta negli Stati Uniti per le sue spregiudicate operazioni finanziarie, ma questo matrimonio è un matrimonio che non funziona, intanto perché subisce degli accordi molto pesanti per lo sposo. Lei riesce a ottenere moltissimo grazie anche alla consulenza di Andre Maier, un grande banchiere, forse il più importante banchiere del secolo scorso, che riesce a incastrare Onassis con un accordo capestro. Ma poi non funziona sotto molti punti di vista e Onassis è costretto a ritornare dalla Callas, che naturalmente è in una posizione di grande difficoltà e tra l'altro è in una posizione di grande sofferenza. Il finale della loro vita è un finale molto molto triste, muore molto tristemente da sola la Callas e muore da solo Onassis colpito da un'infezione incurabile. Una vita molto controversa la sua, grandi successi, grandi ricchezze, ma poi anche grande solitudine, solitudine soprattutto nella parte finale della sua vita e poi solitudine anche aggravata dal fatto che aveva perso in un incidente stradale il suo figlio Alexander. Poi anche sua figlia successivamente a soli 37 anni si suiciderà e il suo patrimonio verrà ereditato dalla nipote Atina. Tuttora Onassis, la parola Onassis è simbolo, è quasi sinonimo di ricchezza sterminata.